eccoci qua siamo appena partiti dal centro bike al di sole ma vediamo la stazione del treno sopra il nostro noleggio a destra il fiume noce e in fronte a noi la bellissima ciclabile della val di sole marcia agile per la salita vediamo qua la stazione adesso stiamo arrivando qua c'è il bici grill di pelizzano maria valpiana a 10 minuti salpisador 30 minuti noi 10 minuti siamo a salpisador con le nostre comodissime e-bike tutto posto come va tutto bene tutto bene vediamo qua Bello, piccolo ma caratteristico. Siamo arrivati alla Maga Valpiana, adesso i nostri ospiti faremo un piccolo break e dobbiamo un caffè. Ciao Bruna! Ciao!